Arriva a Palermo la molto attesa mostra evento dedicata a Baschi, probabilmente il più influente noto street artist esistente. Una nuova collaborazione tra Fondazione Sant'Elia e Fondazione Barbaro sviluppa un progetto espositivo plurisede che metterà in collegamento il loggiato di San Bartolomeo e il Palazzo Trinacria che per la prima volta si apre al pubblico. Un contributo degli street artist locali ha voluto rendere omaggio attraverso un'installazione che accompagnerà il visitatore tra le due sedi. Faremo proprio degli interventi in maniera orizzontale delle orme appunto che sono questi animali che dal loggiato di San Bartolomeo si dirigono verso Palazzo Trinacria. Per noi palermitani è motivo di orgoglio e di soddisfazione il fatto di avere un artista come Baschi di questa caratura qui a Palermo. Per noi di Skip La Comune diciamo si realizza in parte un sogno perché un po' per tutti gli artisti penso che oggi Baschi sia un riferimento e quindi averlo a Palermo è un motivo di grande soddisfazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!